Double face nel colore bronzo e la taglia ho una S, una L e una M, sono le ultime tre pezzi, parliamo del colore bronzo che è un colore amico eccezionale. Da una parte pelliccia, dall'altra parte piumino, double face, 59 euro, ne ho tre, una large, una small e una media. Allora la small veste 100, la media veste 110, la large veste 120, double face, piumino a cappottino con la cerniera, doppio ovviamente reversibile. Vedete, da una parte pelliccia ha sempre la cerniera, vedete? Cioè questo qua ve lo portate sempre e lo rendete elegante dalla parte della pelliccia e sportivo dalla parte del piumino. 59, un giubbotto amiche che è come se ne aveste due perché è un reversibile, regalato 59, lo portate così, poi lo rigirate e ve lo portate dalla parte della pelliccia. Scontato 59 amiche, bellissimo, nella versione bronzo che è molto bella, da una parte bronza e dall'altra parte marrone. Elegantissimo, 59, amiche correte, veloci, small, media e large, 100, 110, 120, bellissimo, cappotto reversibile. Guardate le taglie ragazzi, eh, per favore, seguitemi. Una LV, una M? Allora via la L, rimane la S e la M, brave. Reversibile, reversibile, eccezionale, è un amore. Belliccia da una parte e piumino dall'altra. Eccezionali amiche, guardate, bellissimi. Media e small, la small veste un 100, la media veste un 110, la large veste un 120. Vediamo cosa sta prendendo Armandino. Ciro, prenditele già, Ciro. Sono bellissimi. Prenditele già le taglie che vanno, perché sennò poi lo sassi, domani c'è un'altra, eh, ce l'hai lì fuori, prenditela. Marbe, bronzo. Brave, amiche. Sta suonando tutto. Brave. Guardate che giubbotto. M di Milano, via. Ce l'hai fuori, io c'ho la S. Rimane solo la small, togli la media. Brave, 59, ce l'hai fuori. Sì. No, la M devi prendere, la S mi è rimasta a me. Alla tua destra. Variante verde, amiche, sempre il double face, sempre a 59. Vorrei solo, Rubens, che mi facessi controllare che siano del color verde, perché non vedo tanto bene io lì. Double face, le taglie sono quelle che ha Robby, che ora vi mette a video. Verde Gucci, piuma d'oca, reversibile a 59. ML XL e W XL. Bellissimo. Reversibile, anche qua adesso succede nel marasma, perché il verde piace tanto. Io ora sto indossando una media che ha già una vestibilità importante. Bellissimo. Guardate. Ma, menette, controllami un po' che questi piumini siano verdi, quelli lì, in fondo. Che non ce ne siano neri per non sbagliare, eh. 59. Da una parte pelliccia o dall'altra parte piumino. Poi è lucidino, è molto carino. Col cappuccio. Due giacche in una, verde Gucci, eccezionale, a 59 euro. Ma che cosa stiamo aspettando? Sono pezzi amiche che sono andati a ruba. Reversibile, regalato, a 59. Verde Gucci. Da una parte pelo, pelliccia, e dall'altra parte piumino. Le taglie, ragazzi. Seguite la Manu. Amiche, è ovvio che suona tutto. Sono pezzi pazzeschi. È come avere due. Puoi un attimo, gentilmente, ricordare la misura dell'XL. Quanto ha l'XL? Ora lo misura la Manu. 15 di seno, va bene l'XL? Io prenderei la L, sinceramente. Perché questa qua è una media. Quanto ha l'XL? Bellissima. Sta suonando tutto. Verde Gucci. Questa è la mena media. No, è la L. Ciro. Ciro. Una doppia XL e via. Ok, portagli una doppia XL. Ciro. Ciro. Togli la doppia XL e togli l'XL. Ma Ruben. Dile a Ciro che per la signora ci vuole l'XL, non la L. 59. Sono le ultime, eh. Bellissima. Ancora allora, amiche, rimane una L e una M. Togli l'XL, rimane una L e una M. Double face nel verde Gucci, eccezionale. 59. È reversibile, amiche. Si mette da una parte e dall'altra. Da una parte pelliccio e dall'altra, vedete? È più o meno. Così. resta la media e la large. 59. Verde Gucci. Bellissima. La L via. Mi faccio contente. Devi aggiungere una media, che è quella che ho io qui in campione. Quindi due doppie extra large, una large e una media. Guardate che meraviglia. È quello con la cintura e l'ecopelliccio che ho staccato. Purtroppo, senza volere, si è staccata. Poi la riattacchiamo, non è un problema. Guardate, bellissimo. Modello Montclair. Bellissimo. Con la cintura in vita. Ora ve lo faccio vedere. Vai col prezzo, Roby. 65. 75 euro sono gli ultimissimi pezzi. Una media, due doppia extra large e una large. Con la cintura in vita. Eccezionale. È un bellissimo, bellissimo giubbotto. Guardate. Veramente, veramente bello. Con la sua cerniera. Bello affiancato. La vestibilità comunque buona. Amiche, attenzione, ve lo lascio. In super promozione sono gli ultimi a 59 euro. Veloci. 59. Eccezionale. Con l'ecopelo sul collo. Con la cintura sono gli ultimi tre pezzi regalati a 59. Una media, una large ed una due doppia extra large. Quindi, misure importanti. La media veste un 110 di seno. Ok? Con la sua cintura. È una super promotion. È per chiudere veramente, diciamo, questa linea di più mini. Vi sto facendo vedere le ultimissime possibilità dei prezzi regalati. 59 sono da confermare al volo. È ovvio che suoni tutto. Amiche, a questa cifra. Modello Moncler. Eccezionale. Con cerniera in vita. Subito le taglie, ragazzi. Bellissima. 125, 130 le misure. Large. 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 No, scusami. Extra, extra large. 130. Extra, extra large. La M via. La M via, che è quella che ho io. Ora gliela dopo. Doppia XL via. Doppia XL via. Allora, rimane una doppia XL e una L. doppia XL ce l'hai qua, questa te lo do dopo. Due XXL o meno? No. No. Un XXL, prenditele, una media. È andata. Ma la media ce l'ho io. Prenditi l'XXL lì. Due, allora prenditele lì. Ce l'hai tutte e due. Via anche l'altra XXL. Rimane solo la large. 59. Bellissimo. Io ho la media, ma è già andata. Rimane la large. Large. Perché ho l'apparecchio e faccio large. Roby. Bobby. Com'è? La large resta. È buono? Stop. Finito. Sold out. Putt. Voglio vedere che borsa indossare, Manu. Ora gliela fa. Ma questo, ma questo, amiche. Ma amiche, ma questo. Questo indossa qualsiasi borsa. Perché è un classico. Io metterei questa. È il mio portaborse. Emanuele Abbotto, collection Milano. Cavallino e cocodrillo. Una L, sì. L'ultimo. Cavallino e cocodrillo. Modello Celine a 99, scontata da 135. È l'ultima. È l'ultimo pezzo. Ritiro. Mi sa che è andata anche la large. Ah! Mi aprono la porta, amiche. Mi fanno congelare. Ritiro.